Si chiudono oggi le iscrizioni alle scuole per il prossimo anno scolastico. Non ci sono ancora dati, ma la preoccupazione su come saranno formate le classi è già molto diffusa. Tanto che il Comitato Priorità alla Scuola e i Cobas hanno deciso di promuovere proprio per oggi manifestazioni di protesta in più di 20 città italiane. Bisogna mettere fine alle cosiddette classi pollaio, sostengono gli organizzatori dell'iniziativa, condivisa peraltro anche da FLC, CGL, da Will Scuola, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo. La pandemia ci ha insegnato che le classi non devono essere sovraffollate, aggiungono gli organizzatori, e che le scuole necessitano di spazi più ampi, più diffusi nel territorio, anziché di enormi plessi che attirano un bacino di utenza troppo ampio. Ma c'è anche un bel elenco di richieste per il governo. Si va dalla revisione immediata dei criteri per la formazione delle nuove classi, fissando a 20 il tetto massimo di studenti per classe, con il conseguente ampliamento dell'organico dei docenti e del personale ATA. E si parla anche di accesso rapido ai tamponi per tutta la popolazione scolastica e del ripristino delle infermerie in tutte le scuole. L'idea è anche quella di utilizzare i fondi del Recovery Fund per realizzare un vero e proprio piano Marshall per la scuola, che riguardi l'edilizia ma anche l'ampliamento degli organici. Ma su quest'ultimo punto bisognerà convincere non solo il governo nazionale, ma anche gli organismi europei che hanno già fatto sapere che i fondi dovranno essere utilizzati per gli investimenti e non per la spesa corrente, e men che meno per il personale. Ovviamente tutto questo sarà oggetto di trattativa fra i diversi governi e gli organismi europei e quindi è anche possibile che qualche spazio si riesca ad aprire. Curiosamente le richieste del Comitato Priorità alla scuola e dello schieramento che lo sostiene, che possiamo certamente definire di sinistra, sono condivise anche dalla Lega. Proprio in queste ore il senatore Pittoni ha parlato infatti della necessità di ripristinare i presidi sanitari nelle scuole e di mettere in atto altre misure per garantire il monitoraggio dell'epidemia negli istituti scolastici. Per la verità però in questa fase gli occhi di tutti sono puntati sulla situazione politica che appare in continua e rapida evoluzione. Tra l'altro per martedì, cioè per domani, è previsto un incontro tra la ministra e le organizzazioni sindacali. Si discuterà del Recovery Fund. Qualche novità potrebbe arrivare proprio da questa riunione, sempre che il governo sia ancora in sella. di questo tema ovviamente continueremo a tenervi informati, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro... no, rifaccio l'ultimo pezzetto. Su questo tema continueremo ovviamente a tenervi informati, quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul portale www.tecnicadellascuola.it scriveteci, mandateci i vostri commenti, le vostre osservazioni, noi ne daremo conto come di consueto. Grazie.